Buonasera Milano, ladroni, ladroni, la squadra di ladroni l'Inter, vergogna ladroni! Eh cari napoletani, sapete che la prossima è con la Juve e voglio vedere che succede la prossima, voglio proprio vedere. Tenete presente che se favoriranno la Juve, gli juventini diranno, eh ma la domenica prima hanno favorito l'Inter, quindi a sto punto va bene così. E chi lo prende in culo sono i napoletani, che vengono sfavoriti con l'Inter e sfavoriti con la Juve. Allora hanno ragione a dire che le squadre del Nord, le ladrate delle squadre del Nord, hanno ragione. Adesso scherzi a parte, il rigore non c'era, diciamo subito, il rigore non c'era. Però il fallo, il fallo ci poteva stare, sapete? Sì, il fallo ci poteva stare. Detto questo, e ci tenevo a dirlo, l'Inter ha fatto una gran partita, ecco questo va specificato. E Sommer è veramente un grande portiere. Io ho sbagliato su Sommer perché credevo fosse un buon portiere, invece è un po' di più che un buon portiere. Credevo fosse stato preso solo perché lui comunque è bravo coi piedi e poi è un portiere che para il parabile. Io volevo un portiere che parasse il parabile e poi che sapesse giocare dal basso. Ma questo sta parando un po' di più del parabile. E sulla traversa di Politano, fosse stato un po' più in basso quella palla, lui l'avrebbe presa. Perché era lì, io ho visto il guantone lì pronto. Quindi questo è forte ragazzi. Adesso non è più una partita o due. Un terzo di campionato fa giurisprudenza, quindi Sommer molto molto bene. E quindi sono stato stupito da Sommer. Complimenti alla dirigenza che è andata a prendere Sommer. E poi un'altra cosa volevo dire. Un capolavoro che mi aspetto, eventualmente, vendere Dufris bene. Perché Dufris ha i piedi quadrati. È veloce, quello che volete, però veramente ha i piedi quadrati ed è tatticamente ignorante. Non come persona. Come giocatore, dal punto di vista tattico, è ignorante però. Quindi se loro riuscissero a vendere Dufris, a, non so, 50 milioni, ma forse anche 40 milioni sarebbe una grande operazione. Anche perché Quadrado è più forte di Dufris. Non so se è in grado di fare una partita intera o se lo sarà, però è più forte. Questo è sicuro. E se ne sta parlando un po' poco di Quadrado. Forse ha appena cominciato. Forse il suo assist per il gol del 3-0 non ha cambiato molto le cose. Anche se secondo me è comunque importante il suo assist e il gol di Turam per gasare il giocatore. Che poteva evitare di togliere la maglietta, però chi se ne frega, insomma. Se è contento così, ci va bene anche così. E poi, ancora una volta, sicuramente non in una delle sue migliori partite, ma Lautaro, ragazzi senza palla, è veramente una Iena. Cioè questo è un difendente in più. È un difendente in più. Deve essere veramente brutto giocare contro Lautaro quando hai la palla. Perché questo non molla mai, ti azzanna come un Doberman, non ti molla più. Veramente è una spina nel fianco. È una spina nel fianco dal punto di vista difensivo, oltre che offensivo. E poi, prima di chiudere il video, nonostante il gran gol di Cialanoglu, anche se ha perso un paio di palloni che non mi sono piaciuti, voglio fare una menzione speciale per il gol di Barella, che è stato veramente un gran gol. Cioè, non ha tirato subito rapidissimo nello slalom, poi ha preso sul tempo il portiere molto molto bene. Ma soprattutto, benché sia stato sostituito, ma che giocatore è Mkhitaryan? Questo è fortissimo, ragazzi. Cioè, a me dispiace per frattesi, ma finché c'è Mkhitaryan, non lo so, è quasi più facile fare il posto a Barella che a Mkhitaryan. è veramente forte, forte, forte. Un saluto a tutti.